La prima sfida da vincere è personale, anche se di fatto si mescola con il sogno di poter portare in Serie A il Bari. Gioca a carte scoperte Franco Brienza, uno degli elementi più esperti nella rosa dei biancorossi. Al rientro, dopo il grave infortunio al ginocchio, è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Fabio Grosso in una stagione nella quale è elevata la concorrenza in attacco e per stessa missione di Brienza potrebbe essere l'ultima a questi livelli. E' una sfida, è una sfida per me importante perché comunque alla mia età dopo un infortunio io voglio sicuramente vincerla personalmente poi dopo è normale che dovrò contribuire in campo insieme agli altri a far bene. C'è da guardare avanti voltandosi spesso indietro perché l'infortunio che lo ha tolto al Bari per buona parte della passata stagione ha lasciato qualche segno più psicologico che fisico. Brienza racconta che in silenzio ha lavorato per tornare quello di prima. Io dopo l'infortunio ho lavorato duramente per ritornare ad essere quello di prima. Ora è normale che ancora non lo sono ma lavoro quotidianamente per raggiungere quel livello. E' normale. Brienza conosce bene Fabio Grosso avendoci giocato insieme. Anzi proprio il ritrovare un ex compagno di squadra, oggi tecnico, conferma che il tempo passa. Ma Brienza ha ancora tanta voglia di dimostrare quanto vale. Secondo me con grandi idee, con grandissima personalità e voglia di far bene ne ha tanta. Comunque già dalle prime impressioni si vede che la squadra ha un'idea comune. Quindi è già una bella cosa. Non è facile dare un'impronta a una squadra dopo comunque un mese di lavoro. Sono giorni di intensa preparazione per l'attaccante Ischitano che proprio all'ossa isola rivolge un pensiero dopo il terremoto di due giorni fa. Un momento sicuramente di tristezza, di qualcosa che pensi che a te personalmente non possa accadere. E' un momento sicuramente triste che sono vicino alla mia isola. E' dispiace che è successo. Comunque sono venuto a mancare due persone. Tanti feriti, bambini che si sono salvati. E' un momento triste per noi e per noi.